I sindaci abruzzesi e laziali tornano a marciare su Roma. Giovedì ci sarà una manifestazione davanti al Ministero delle Infrastrutture con 100 sindaci. Dicono no all'aumento dei pedaggi e chiedono anche interventi per mettere in sicurezza 24 a 25. Ieri il coordinamento dei sindaci si è riunito ancora una volta a Carzoli e ha deciso per quest'ennesima protesta una sorta di corsa contro il tempo per evitare gli aumenti che potrebbero scattare dal 1 gennaio 2022 e pari probabilmente al 34,5%. Il sindaco di Carzoli, Velia Nazarro, ha spiegato che eccetto il governatore Marsilio, nessuno ha risposto alle loro sollecitazioni e di lì la decisione di tornare a protestare. Il rincaro, come è noto, è previsto perché le tariffe sono bloccate da anni per effetto di una serie di decreti e sono fermi ai valori che ci sono stati dal 2015 al 2017. Il nodo che può far scattare gli aumenti è la mancata approvazione del piano economico finanziario di Stada dei Parchi, fermo dal 2013, anno in cui si sarebbe dovuto rinnovare. Anche la deputata del PD Stefania Pezzopane oggi in conferenza stampa è intervenuta su questo tema. Lunedì in Commissione Ambiente e Territorio, infatti, si affronteranno gli emendamenti da lei presentati per bloccare questa mannaia, un aumento spropositato secondo la DEM, inaccettabile da ogni punto di vista. L'approvazione del PEF era essenziale per la Pezzopane perché è scaduto da anni e diversi ministri se ne erano occupati senza riuscire a trovare una soluzione. La Pezzopane ha ricordato che c'è il commissario voluto dopo una sentenza del Consiglio di Stato. Recentemente e finalmente ha detto ha consegnato il plico del PEF al ministro delle infrastrutture, ma attendiamo l'esame da parte degli uffici. Ci sono 3 miliardi per fare i lavori, ha ricordato, poi 2 che dovrà mettere il concessionario, una somma enorme per mettere in sicurezza e modernare le autostrade. La Pezzopane tenta così la strada nel decreto infrastrutture e ha presentato due emendamenti, come si diceva, uno generale che blocca gli aumenti delle tariffe sino all'approvazione dei PEF e uno specifico su A2425. Mi auguro che il governo concluso affronti questo discorso, altrimenti se ne dovrà far carico con la legge di bilancio, ma comunque entro poco la questione va risolta.